Quale sindaco vorresti per Pescara? Da lunedì scegli il tuo sindaco, la parola ai pescaresi che per tre settimane potranno indicare il candidato preferito con il tagliando pubblicato sul quotidiano Il Centro. I nomi più votati dai lettori, ci spiega il direttore Piero Anchino, saranno chiamati a confrontarsi sulla nostra emittente. Basta scrivere il nome del candidato sindaco preferito sul tagliando e imbucarlo nell'urna o della sede del quotidiano Il Centro o nelle edicole pubblicate sul giornale. Abbiamo pensato di dare voce ai pescaresi, ai cittadini, a coloro che poi dovranno recarsi alle urne e affidare la città al futuro sindaco. Finora sono stati fatti tanti nomi, tante trattative, tante liti tra i partiti, poche indicazioni chiare. Allora abbiamo pensato, forse si è giunto il momento, di dare appunto voce a chi poi dovrà votare. Da lunedì partiremo con questo, come mi piace definirlo, grosso sondaggio popolare e pubblicheremo il tagliando ogni giorno sulla prima pagina del Centro, edizione di Pescara. Basterà indicare il nominativo, ritagliare il coupon, come dicevi giustamente tu, e imbucarlo nelle urne che saranno posizionate qui nella redazione del Centro e in alcune edicole di Pescara. L'indicazione sarà ovviamente sul giornale. Ci aspettiamo una grossa risposta perché è un momento importante per la città di Pescara. Sono tante le priorità da affrontare per il nuovo sindaco. Pescara ha bisogno in qualche modo di ripartire, non vuole essere una critica verso la precedente amministrazione, ma purtroppo Pescara è una città con tanti problemi, come tante altre città italiane ovviamente. E quindi comunque per il prossimo sindaco il compito sarà particolarmente complesso. Quindi sarà una scelta importante, delicata. Diciamo che non si può sbagliare nella scelta del sindaco, per cui adesso vogliamo tastare un po' il polso alla cittadinanza. Naturalmente, prosegue il direttore Anchino, si potranno indicare non solo politici ma anche i nomi della società civile. E poi ci tengo a sottolineare che questa iniziativa in qualche modo è stata pensata e verrà portata avanti in collaborazione con Rete8 perché dopo una settimana, posso anticiparlo, mi sostituisco a voi, e ci sarà una trasmissione con i politici, o comunque con quelli che prenderanno più voti, più indicazioni. Quindi sarà già un primo passaggio importante, poi ce ne saranno altri con aggiornamenti continui, quotidiani, sulla classifica ovviamente dei voti presi. Grazie a tutti.